Ciao a tutti, benvenuti nel calendario dell'avvento Targato Glow Special Store Buon 5 dicembre, oggi abbiamo pensato a un uomo o una donna che ama i lupetti quindi vi proponiamo i diversi lupetti che andranno sempre in promo per 24 ore questo qui andrà in promo a 40 euro e le tale disponibili sono dalla M fino alla Doc Laiz poi invece c'è questo, sempre lupetto con le trecce che andrà in promo a 50-50 sempre solo per le 24 ore, c'è il basico che andrà in promo a 30 euro ottime idee regalo, affrettatevi, prendeteli subito perché poi le tale sicuramente termineranno questo è disponibile boom hot, nero e bianco, quindi tre varianti di colore a 30 euro e poi c'è il lupetto donna, il basico che è disponibile sempre sia nel nero sia nel rosso e sia nel bluette ricordatevi di condividere i nostri video così anche voi potete far vedere ai vostri amici tutto quello che noi abbiamo a disposizione per le del regalo ma anche per farvi un regalo alla fine per voi stessi non è detto che dovete per forza regalarli quest'anno abbiamo pensato a delle box particolari quindi nel caso abbiamo anche delle box regalo potete fare tranquillamente anche i bigliettini personalizzati quello che volete ci vediamo domani nella prossima puntata ciao